Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo bellissimo motivo formato da delle trecce e da delle foglie. Più specificatamente lo vediamo in questo modo, quindi sul davanti si presenta così, quindi vedete delle trecce diciamo così centrali e poi ai lati delle foglie. È un motivo semplicissimo che ovviamente viene fatto con il supporto ovviamente di un ferrosiliario per creare appunto questi intrecci, mentre per il resto è abbastanza semplice. È formato da 34 maglie più ovviamente le quattro di vivagno che vanno a formare il bordo. Sul davanti appunto vi ho detto che si presenta in questo modo e si realizza in dieci ferri. Io in questo caso ho realizzato tre motivi quindi uno, due e tre. Sul dietro invece si presenta in questo modo e i ferri pari o i ferri di ritorno le maglie vengono lavorate come si presentano. Quindi dove troviamo il rovescio andremo a fare un rovescio, dove troviamo un diritto andiamo a fare un diritto. Adesso andiamo a vedere come si procede. Allora ho montato sul ferro 34 maglie più ovviamente le quattro di vivagno, quindi due per ogni lato che vanno a formare il bordo. Ho già fatto due motivi e adesso andiamo a fare un motivo insieme. Allora per prima cosa andiamo a fare il vivagno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta il vivagno e vado a fare un rovescio ovviamente e una maglia alla passo che è il mio vivagno. Dopodiché andiamo a fare il motivo. Sedici diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e sedici. Due rovesci e chiudiamo il ferro di nuovo con sedici diritti. Quindi tutte le maglie a diritto. Fino ovviamente ad arrivare alla fine. Arrivati alla fine ovviamente c'è il vivagno, quindi passo una maglia senza lavorare e lavoro un rovescio. Il secondo ferro vado a fare le maglie come si presentano, quindi dove c'è un rovescio andrò a fare il rovescio, dove c'è un diritto andrò a fare un diritto. Per cui vado a fare il vivagno che è al rovescio, quindi avrò sedici rovesci. E dove c'è il diritto andrò a fare il diritto, quindi due diritti e di nuovo sedici rovesci fino alla fine del ferro. Quindi proseguite a rovescio fino alla fine del ferro. Terzo ferro, vado a fare il vivagno, sei diritti, uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Tre maglie insieme a diritto, quindi prendo tre maglie insieme e le lavoro a diritto. Un gettato, un diritto, un gettato, sei diritti, uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Due rovesci, sei diritti, uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Un gettato, un diritto, un gettato e adesso vado a fare una diminuzione a tre maglie, cioè passo una maglia senza lavorarla sul ferro di destra, lavoro due maglie insieme a diritto, passo la maglia non lavorata sopra gli altri due. termino con sei diritti, uno, due, tre, quattro, cinque e sei. E ovviamente il vivagno. Il quarto ferro è uguale al secondo e quindi dove trovate il rovescio andate a fare il rovescio, dove trovate il diritto andate a fare il diritto. Quindi andate a fare sedici rovesci, due diritti e sedici rovesci. Quinto ferro, vado a fare il vivagno, quattro diritti, uno, due, tre e quattro. Tre maglie insieme a diritto, un diritto e un gettato, un diritto e un gettato, sette diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Due rovesci e sette diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto. Passo una maglia senza lavorare sul ferro di destra. Lavoro due maglie insieme a diritto. A cavallo la prima sopra la seconda. Quattro diritti. Uno, due, tre e quattro. E ovviamente il vivagno. Sesto ferro, come si presentano le maglie. Settimo ferro, vado a fare il vivagno. Due diritti. Uno e due. Tre maglie insieme a diritto. Due diritti. Un gettato e un diritto. un gettato e un diritto. Un diritto. Adesso prendo il mercato, scusate, il ferro ausiliario e sposto sul ferro ausiliario tre maglie. Uno, due e tre. Le posiziono sul davanti del lavoro e vado a fare tre diritti. Uno, due e tre. Riprendo le maglie. Le posiziono sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. Uno, due e tre. Due rovesci. Uno e due. Riprendo il ferro ausiliario, sposto sul ferro ausiliario tre maglie. Uno, due e tre. Riprendo le maglie. Le posiziono sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. uno, due e tre. Due diritti. Uno e due. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto. Un diritto. Sposto una maglia sul ferro di destra. Lavoro due maglie insieme a diritto. A cavallo la prima sopra la seconda. Due diritti. Uno e due. E ovviamente il vivagno. L'ottavo ferro. Come si presentano le maglie. Nono ferro. Vado a fare il vivagno. Tre maglie insieme a diritto. Tre diritti. Uno, due e tre. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto. Otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e nove diritti. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto. Due diritti. passo una maglia senza lavorare sul ferro di destra. Lavoro insieme due maglie a diritto. A cavallo la prima sopra la seconda. E chiudo ovviamente col vivagno. Decimo e ultimo ferro. vado a lavorare le maglie come si presentano. Come vedete scusate il motivo è terminato. Per ripeterlo non dobbiamo far altro che ripetere appunto dal ferro numero uno al ferro numero dieci. Vi ricordo che sotto al video vi lascio il motivo per iscritto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!